Come forse hai notato qualche settimana fa abbiamo fatto un cambiamento piuttosto importante nel mondo del podcast Impact Girl. Abbiamo aumentato la frequenza delle uscite in versione audio e allo stesso tempo, ahimè, abbiamo messo in pausa il rilascio della versione video in questo canale YouTube da oltre 35.000 iscritti, ossia tutti voi. Un cambiamento piuttosto importante per un business digitale. Infatti ci siamo fatti molte domande prima di prendere questa decisione e non sono mancate le vostre domande in proposito e per questo ho deciso di fare questo video. In realtà è molto simile quello che vi dirò qui ad una delle ultime puntate di Impact Girl Podcast, però non è detto che se tu segui il nostro canale su YouTube ascolti anche le puntate, quindi ho pensato che fosse importante un aggiornamento. Partiamo col dire che non abbiamo chiuso il canale YouTube, solo sospeso momentaneamente la pubblicazione delle puntate in versione video, ma comunque non è stato qualcosa che abbiamo fatto a cuore leggero, tanto che ci abbiamo messo mesi per prendere la decisione e non è stato facile prendere questa decisione per due motivi. Il primo è che YouTube mi accompagna da quando ho fatto capolino sul web la prima volta. Se conosci un po' della mia storia digitale sai che ho iniziato occupandomi di SEO, ottimizzazione quindi nei motori di ricerca e proprio grazie ai miei video su YouTube ho iniziato ad essere scoperta e scelta dai miei primi clienti. Rilasciavo questi brevi video pillole sulla SEO che hanno subito funzionato piuttosto bene, forse perché ero praticamente l'unica della nicchia a non creare dei pipponi indigesti sul tema, oltre ad essere al tempo perlomeno anche l'unica donna ad occuparsi di questo tema e questo mi ha senza dubbio premiata, insomma YouTube è sempre stato al mio fianco dall'alba dei tempi. C'è poi un altro motivo per cui sospendere momentaneamente la pubblicazione su questo canale non è stata decisione facile e cioè che il modo in cui queste piattaforme funzionano premia la presenza, il che non vuol dire che uno necessariamente debba mettersi a pubblicare ogni giorno se non riesce a mantenere il ritmo e la qualità dei contenuti allo stesso tempo, però significa che se si ha una cadenza prevedibile e regolare l'algoritmo tende a premiarti in termini di visibilità, ma anche la tua audience inizia ad apprezzarti e avere fiducia nel fatto che ci sarai, che tornerai con nuovi contenuti utili. Sa quando escono nuovi video, attiva le notifiche e poi tra l'altro i video mi sono sempre piaciuti molto come mezzo per veicolare i concetti a cui tengo di più, perché è il format che più si avvicina all'incontrare una persona dal vivo. Ovvio che non è la stessa cosa, però hai capito cosa intendo. Vedi come la persona si muove, noti l'espressione del volto, tutti aspetti che insieme alla voce aiutano molto a veicolare fiducia e autorevolezza. Insomma, tutto questo senza farla troppo lunga per dirti che siamo ben consapevoli che sospendere temporaneamente potrebbe significare anche la perdita significativa della tua presenza su questo canale, perché potresti non accorgerti quando poi un giorno dovessimo scegliere di tornare. E queste sono state le ragioni per cui ci abbiamo messo mesi a decidere. È vero anche che sapevamo da tempo qual era la cosa giusta da fare, semplicemente perché ce l'avete chiesto voi. Da quest'anno in particolare sono aumentate le richieste di poter incrementare la frequenza di uscita delle puntate del podcast, che fino a poco tempo fa uscivano una volta ogni due settimane. I nostri progetti sono sempre al tuo servizio, la tua voce ha un peso importante. E inutile dire che mi ha fatto un grande piacere ricevere queste richieste, ma per quanto possa dire di cavarmela molto bene con la mia gestione del tempo, soprattutto da quando sono diventata mamma, c'è un'altra voce che ha un peso enorme nella mia vita, che è quella della mia piccola. E oggi per me gestire un business sostenibile non è più una scelta di posizione, è a tutti gli effetti una necessità a lungo termine. E quindi sapevo già da subito che questa richiesta non poteva essere ignorata, ma sapevo anche che avrei dovuto farlo alle mie condizioni per mantenere alta la qualità di questi contenuti senza soccombere al ritmo frenetico di pubblicazione. E anche se non l'ho ascoltata subito, appena ho cominciato a chiedermi quale potesse essere una soluzione disponibile, la risposta è arrivata in un lampo. Prendere temporaneamente le distanze da YouTube. Prendere la decisione di togliere qualcosa dalla tua lista è difficile ed è forse una delle cose più difficili che ti ritroverai a fare nel tuo lavoro, soprattutto se si tratta di qualcosa che fai da tanto tempo e che ami fare, come nel mio caso i video. Ma sono proprio le cose che fai da sempre, che spesso hanno bisogno di una piccola revisione periodica, una revisione consapevole. Ha davvero senso continuare a farle in questo momento, in questa fase della nostra vita e della vita del nostro business? Oppure potrebbe aver senso togliere qualcosa e sperimentare una strada diversa? La tua risposta a questa domanda può letteralmente fare la differenza fra un business che ti esaurisce e un business che nutre lo stile di vita che hai sempre desiderato. Sovraccaricarsi di lavoro non è mai una scorciatoia verso il successo, non l'è mai stata e non lo sarà mai, ma trovare la giusta armonia tra famiglia, ambizioni professionali e tempo per noi, senza dubbio, è la mia versione di successo. Se questa è anche la tua versione di successo, continua allora ad ascoltare il podcast di Impact Girl sulle tue piattaforme podcast preferita, in uscita ogni settimana. Ti ricordo inoltre che questo non è un addio YouTube Lover, è solo un arrivederci. Se pensi che ti mancherò lasciami qui sotto un tuo commento, potrai decidere di tornare prima del previsto.